Buongiorno a tutti e benvenuti a questo podcast settimanale. Ieri è stata la giornata di Investing Roma, è stato piacevole scambiare quattro chiacchiere con quelli che di voi erano presenti e anche con una buona parte degli amici che quotidianamente ci accompagnano nella nostra trasmissione su YouTube. Insomma è stato davvero un piacere e torno di nuovo a ringraziare tutti quelli che direttamente o indirettamente hanno partecipato, sono venuti a salutarci, è stato davvero un momento interessante. Detto questo ieri sono stati interessanti anche i mercati finanziari, c'è stato questo dato dei payrolls americani decisamente migliori delle aspettative diciamo e su questa cosa ci si possono fare alcune domande. Parto da quelle che mi avete fatto voi, soprattutto tantissimi mi avete scritto dicendo ma com'è possibile che i mercati che ci avevano abituato ovviamente da tanto tempo alla condizionalità. Good news, bad news, cioè buona notizia per l'economia, cattiva notizia per il mercato e viceversa. Cattiva notizia per l'economia, buona notizia per il mercato. Ebbene tutti o molti quelli che mi hanno scritto ieri si aspettavano che una buona notizia per l'economia, cioè questi payrolls sorprendentemente sopra le aspettative avrebbero dovuto far scendere i mercati e in effetti questo è successo nelle prime battute. Poi l'azionario, e diciamo ci tengo a ribadire soprattutto l'azionario, ha visto in realtà una svolta differente e addirittura è andato a chiudere fortemente positivo soprattutto per quanto concerne il Nasdaq e quindi questo ha spiazzato molti. E devo dire che questo è anche il bello dei mercati, se i mercati fossero una cosa dove c'è una regoletta facile, mai smentita, sempre efficiente e dove bastasse applicare questa per guadagnare, sarebbe tutto così scontato che forse finirebbero per non essere più nemmeno appassionanti. E invece la passione per i mercati viene proprio da questo, perché i mercati stupiscono sempre e sempre tanto di più proprio quando non te l'aspetti. Quindi insomma tutto sommato questo è anche un po' il loro bello. E diciamo che allora qui nascono altre domande. La prima domanda è, bene, quindi siamo adesso in una fase dove good news per l'economia uguale anche good news per il mercato? Beh, questo è stato vero nella sessione di ieri con qualche distinguo che poi vorrei fare, però non è assolutamente scontato che sia vero sempre, dipenderà. Diciamo intanto che c'è un'altra domanda che secondo me, come dire, lascia tutto questo un po' in sospetto ed è, ma come è possibile che le previsioni si sbagliassero in maniera così pesante? Perché i payrolls di ieri sono stati davvero sorprendenti in senso positivo. La resilienza del mondo del lavoro negli Stati Uniti è davvero sorprendente. Beh, diciamo quindi che, questa è la domanda forse che ci si dovrebbe più fare, ma com'è possibile che super analisti, super preparati sbaglino, cappellino proprio, si può dire da questo punto di vista, in questo modo una previsione sulla quale poi il mercato fa tutte le sue recuperazioni. E in ogni caso viene da dire, forse il mercato ha semplicemente realizzato che quell'essere così falco della Fed anche negli ultimi giorni, in fondo aveva delle motivazioni. Io sono sempre dell'idea che certi dati, ovviamente su certi dati, ovviamente in certe stanze c'è una preview, c'è un modo di capirlo e si capisce bene quindi perché la Fed fosse così falco nel dire terremi tassi alti più a lungo, faremo il nostro mestiere, contrasteremo l'inflazione, insomma e quant'altro. Ieri devo dire anche che il nostro amico e ospite Eric Norland, insomma in fondo ci ha raccontato di un'America che ha due facce, quella della Fed che tenta in ogni modo di contrastare l'inflazione e che nel farlo vorrebbe forse anche vedere un pochino aumentare la disoccupazione o meglio vedere un calbiramento del mondo del lavoro e anche dell'economia e dall'altra invece ed è il motivo per cui secondo Eric l'economia americana è così resiliente per esempio rispetto a quella europea è che c'è diciamo l'Inflation Reduction Act, cioè quel pacchetto di stimoli varato a ottobre del 2022 dall'amministrazione americana che in realtà proprio favorisce in maniera deliberata la creazione di nuovi posti di lavoro, lo stimolo diciamo così per tutta l'economia e quindi in qualche modo è come se la destra volesse prendere e la sinistra in realtà di apposta per consentire di prendere dall'altra parte, insomma sono un po' in contrasto la politica della Fed e quella dell'amministrazione, è chiaro lo fanno con obiettivi diversi ma si capisce bene che l'amministrazione americana non può permettersi nonostante le politiche della Fed che ci sia un'economia troppo all'osso, proprio a ridosso delle prossime elezioni e questo è un altro dato di fatto. Detto questo rimane un pochino da verificare se davvero questa reazione di ieri è una reazione duratura, se è figlia della sola giornata e in questo la settimana prossima e poi l'arrivo soprattutto dei dati sull'inflazione ci diranno se potrà continuare. Faccio notare però un fatto, di nuovo ieri il Nasdaq ha sovraperformato e anche andando a vedere la performance dell'SP500 dove si vede che è salito tanto, in realtà si vede che è salito soprattutto sempre il solito paniere di quelle 7, 8, 10 sorelle che sono le grandi capitalizzazioni che hanno caratteristiche simili, sono piene di soldi, sono dominanti all'interno dei panieri che pesano specificatamente diciamo così la capitalizzazione, quindi che si dice sono ponderate e evidentemente queste aziende non conoscono sosta e il mercato è andato a comprare proprio quelle, questa potrebbe essere un po' una spiegazione, cioè è vero che si è comprato l'azionario ma si è comprato quell'azionario che comunque tenderà a soffrire di meno perché ha liquidità, perché non ha debito, perché è più sostenibile e perché magari proprio in un momento in cui si faranno forse un po' meno buyback, visti i prezzi elevati a cui sta per certi versi l'azionario, andranno a comprarsi loro un po' di scadenze annuali o biennali, bonds americani che rendono oltre il 5% e che gli consentiranno di fare ulteriore utile. Quindi insomma direi una chiave di lettura come dire un po' particolare, quella che il mercato ha avuto ieri che poi si è riversata in un'ondata di acquisti abbastanza importanti come abbiamo visto e che è chiamata la conferma la prossima settimana con i dati sull'inflazione e anche in un contesto dove comunque regna sempre un po' di incertezza perché un mercato sicuro di sé non vive di questi alti e bassi. Per questa settimana è tutto, alla prossima, ciao!